Sta per scattare l'ottava edizione dell'Ardita, la tradizionale ciclo storica dell'Alpe di Poti che conferma anche per il 2024 il binomio con Arezzo Gravel, la cicloturistica per Gravel Mountain Bike di bike giunta alla seconda edizione e che lo scorso anno ha portato ad Arezzo 300 appassionati da tutta Italia. Quest'anno noi ci riproviamo, domenica 24 con l'Ardita l'ottava edizione e sabato 23 con la seconda edizione di Arezzo Gravel. Un programma che è arricchito, percorsi migliorati, abbiamo potenziato i ristori, li portiamo a pedalare in posti nuovi perché bisogna dare anche delle novità e poi abbiamo un bel programma anche per gli accompagnatori perché abbiamo l'Ardita a piedi, quindi un trekking urbano, abbiamo l'Ardita ai monumenti quindi li portiamo a vedere i nostri monumenti a partire dal Duomo, la Pieve, Piazza Grande, insomma un programma veramente ricco di eventi che poi trovate indicato nel sito, è anche lungo da descrivere, però che veramente permette a tutti di partecipare in qualche modo alle manifestazioni. Si parte venerdì 22 marzo alle 15 con il taglio del nastro, l'inaugurazione della mostra di bici storiche e l'apertura della segreteria nell'atrio della provincia. Penso che sia veramente un evento importante che dia anche un po' l'esempio di come dovrebbero essere organizzati questi eventi dove non c'è solo la parte agonistica sportiva o conviviale ma vengono anche proposte argomentazioni e valorizzazioni delle nostre zone attraverso la bellezza dei luoghi, la conoscenza dei centri abitati e come fanno anche loro con questa iniziativa che a me piace molto a piedi nel centro storico per vedere e far vedere agli ospiti le bellezze di Arezzo. Chi viene a fare ardita spesso e volentieri è anche un turista, gli accompagnatori, quindi è la promozione del territorio con ricadute importanti per il turismo e per le attività recettive della nostra zona.